amici di tv via barre andrea fiore appena appena dichiarato ufficialmente che se che lascia che se ci fosse il torneo di ping pong sarebbe testa di serie numero uno del circolo già mette le mani avanti c'è da dire che ha gli stessi esatti movimenti di quando gioca a tennis e niente qui il capitano in difficoltà attenzione attenzione però però fuori di otto metri come a tennis non vedo grosse differenze sostanziali vabbè è capito è capito fiore un talento lo vedo un po studato e niente qui attenzione 4 a 0 attenzione attenzione è 5 a 0 ragazzi qui si profila un cappotto mi lasceremo con il fiato sospeso è capito Grazie.